Il Consapevole affronta i temi economici, politici e sociali con un approccio molto differente da quello offerto da giornali e tv tradizionali. Dalla decrescita felice alle monete complementari per lo sviluppo di comunità e attività basate sull'autosufficienza e la riduzione dei consumi inutili. Il Consapevole è una rivista minestrale che noi distribuiamo in edicola per abbonamento, in libreria e nelle fiere e negli eventi a cui Macroedizioni partecipa. Un ventaglio di temi molto ampio, l'economia, la politica, la società ma anche la salute. Ci dice di prendere atto e coscienza invece del fatto che tutti noi, se vogliamo, possiamo cambiare le cose partendo dal cambiamento del nostro stile di vita, dei nostri modi di pensare e prendendo coscienza del fatto che noi possiamo agire sul mondo e sulla società in modi forti e a cui dobbiamo prestare attenzione.